intanto saluto tutti grazie al direttore e allora ho scelto il frosinone per vari motivi uno su tutti è la serietà della società e l'ambizione che ha di voler rimanere in serie a l'allenatore che propone un bel calcio quindi non rinunciativo il direttore sicuramente una garanzia non devo presentarlo io e quindi un mix di cose in più sicuramente ho tanta voglia di dimostrare che questi mesi che non ho potuto giocare non mi hanno penalizzato a livello psicologico e sicuramente a livello fisico avrò bisogno di un minimo di rodaggio per riprendere il ritmo che solitamente ho però d'altro canto mi sono sempre allenato bene fuori dal campo ho curato anche il dettaglio quindi sono pronto per iniziare e ho tanta voglia di dare allora sì sicuramente ci sono state delle defezioni che non hanno aiutato la squadra però d'altro canto penso che noi dobbiamo fare in modo abbiamo la responsabilità anche di dover sopperire a queste cose noi come giocatori e quindi aiutare l'allenatore nel momento in cui c'è una differenza di modulo di posizione anche che dobbiamo ricoprire in campo e quindi abbiamo il dovere ecco di dover portare i risultati comunque per quanto mi riguarda giocare a quattro a tre quando si ha una squadra organizzata non fa differenza perché calcio è calcio e quindi la cosa importante sicuramente è l'organizzazione di squadra non faccio differenze quindi su sui moduli e per quanto riguardo giovedì io la mia disponibilità è dal giorno che sono arrivato qui di notte in macchina dopo cinque ore di viaggio ero ero pronto già chiaramente spero fin da subito di sicuramente mentalmente ci sono da subito e spero di dare il mio contributo al cento per cento il prima possibile allora per quanto riguarda la parte economica sì diciamo che a volte la volontà e il desiderio di fare qualcosa va oltre la parte economica è sicuramente importante nessuno di noi tutti noi siamo qui oggi per quello perché il nostro lavoro però poi dopo va abbinata anche ad altre cose per quanto riguarda bologna non mi va di parlarne ma non perché io abbia rammarico o qualcosa semplicemente perché sono a frosinone mi piace vivere la realtà e mi piace parlare di realtà e qual era la domanda su frosinone ok si può fare perché per primo c'è un'organizzazione dell'area tecnica valida a partire dalla dirigenza allenatore lo staff allenatore eccetera e poi ci sono dei ragazzi veramente bravi io ieri ho avuto modo di allenarmi il primo giorno con loro e proprio giusto prima di entrare il direttore io ho detto ci puntini 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 o i ragazzi vanno forte perché realmente i ragazzi si impegnano tanto hanno qualità sia fisica che tecnica quindi c'è la struttura per poterlo fare e quindi noi abbiamo il dovere di dare qualsiasi cosa per poter rimanere in serie a prima che stava firmando per noi ci eravamo messi d'accordo sono arrivate altre due società non faccio il nome per correttezza società di metà classifica in su che l'hanno chiesto il bologna ha detto no per così no e lui neanche se ha pensato a cercare questa veramente non so come andrà a finire questi sei mesi però ha fatto ha dato un segnale molto forte che per noi società è stata importante sia sull'aspetto economico e sia sull'aspetto comportamentale allora si sono dei ragazzi molto giovani però allo stesso tempo ora ciò che notavamo anche parlando con mio amico lorenzo silvestri che ha ancora più esperienza di me che le nuove generazioni sono già pronte arrivano impostati hanno una mentalità diversa questo sarà per esperienza visiva che hanno raccolto negli anni o anche per la formazione che hanno le società oggi quindi sicuramente non gli devo insegnare niente sotto l'aspetto professionalità comportamenti allenamenti eccetera certo sì quello che posso io dare a loro con grande umiltà chiaramente mi inserirò in punta dei piedi è la conoscenza del campionato dei momenti in una terminata partita capire l'importanza di una palla giocata al ventesimo o giocata all'ottantesimo capire il risultato quando è giusto fare di tutto per vincere o quando è giusto che la giornata è così prendersi il punto quindi sotto l'aspetto diciamo gestionale di dell'emozione della partita nel pre gara questo mi sento che posso dare una mano a questi ragazzi e poi a me piace anche curare i rapporti personali tra compagni purtroppo qui non ho avuto la parte ritiro prestagione per poter fare la conoscenza più approfondita però io sono un ragazzo disponibile su tutto se qualcuno ha bisogno anche per parlare quando uno non gioca che si aspettava di giocare eccetera sono cose che ho vissuto e quando posso cerco sempre di dare una mano e se ho parlato con il mister diciamo che indirettamente già ci conoscevamo perché io ho giocato con il figlio Federico e quindi so che persona è diciamo non avevo bisogno di eventuali presentazioni e abbiamo iniziato a parlare subito di praticità di tatticismo di cosa lui vorrebbe da me e quindi ci siamo confrontati su quello e poi varie battute per per sciogliere diciamo il ghiaccio e dal mio punto di vista io come ho detto prima sulla domanda riguardo il bologna vivo molto alla giornata e mi piace pensare nel nell'oggi quindi non ho una costruzione su sul mio futuro dell'anno prossimo eccetera io davvero oggi penso ad oggi oggi mi devo allenare e voglio fare sicuramente di tutto per per far sì che una società come questa che merita di rimanere in serie a rimanga in serie a e poi si vedrà volentieri no diciamo che nell'ultimo anno e mezzo il nostro modo di giocare a bologna era praticamente simile nel senso che avevamo una costruzione molto alta quindi presidiavamo la metà campo avversaria per gran parte della partita con il possesso e di conseguenza i centrali si trovavano a giocare uomo a uomo sulla linea metà campo che è praticamente vista in maniera diversa quello che vuole il nostro allenatore eusepio che vuole un pressing una pressione alta e di conseguenza ti ritrovi con tanto campo alle spalle praticamente è semplicemente capire come vuole il mister che venga effettuato e modificare quelle piccole cose che già facevo di conseguenza non trovo sia un un problema sì sì sicuramente quando c'è stima reciproca è un vantaggio e facilita la scelta poi ho avuto il piacere parlare con il direttore che brevemente mi ha mi è arrivato insomma e quindi è stata una scelta abbastanza pratica e veloce devo dire la verità sì questo è uno stadio molto molto bello e come elencavo prima è uno dei motivi per la quale questa società merita di rimanere nella massima serie e io quello che posso promettere è un impegno massimo ogni giorno ogni giorno dal primo giorno che sono arrivato qui fino all'ultimo giorno che sarò qui ma non solo la domenica in campo ma tutti i giorni cercando di apportare a me a me stesso qualcosa e agli altri questa è l'unica promessa che posso fare e che ce la metteremo tutta davvero per per mantenere la serie è successo niente non ne voglio più parlare perché per me ormai è passato oggi è presente qui non ho mai un capitolo chiuso non mi interessa più mi interessa avere questa questo rapporto con un giocatore come kevin che ha rinunciato delle cose per venire qui per cui per me già per me di come me società e me persona già è una vittoria quello che succede succederà non lo so però per me per me e per la mia società per il mio presidente è una vittoria contro se sono chiaro cioè poi possiamo retrocedere ci dobbiamo salvare tutto però quando c'è delle persone come ce n'abbiamo parecchie squadre noi che ti scelgono e vogliono stare con te è come quando uno si trova la fidanzata la moglie e che sta con lui e lui è stato e questo punto basta ma è una persona che non voglio più menzionare non mi interessa andiamo avanti io io mi piace sempre andare avanti non mi curi io non guardo mai indietro l'ho fatto subito poi dopo non è che non ti voglio l'ho fatto subito dopo non mi giuro neanche ci sto pensando a me non esiste più io ho avuto tante fidanzate me le scordo quando finisce finisce non non voglio sapere niente e se così noi stiamo cercando di completare la squadra come quando ho detto a fine il calciomercato sono venuto qua detto ragazzi ho sbagliato a non prendo un altro difensore perché l'ultimo giorno ho lasciato perdere un difensore perché esatto l'ho detto chiaramente detto sbagliato io perché non mi nascondo dietro un angolo a dire è detto è primo uno dei primi acquisti che devo fare e prendere un difensore centrale siamo partiti abbiamo lavorato su due o tre profili tra fine abbiamo preso profilo che era che più giusto perché prima ma io neanche mi ricordavo perché lui non è che anziano lui è giovane 1996 dico bene e stavo guardando qua grazie a massimiliano che mi dà le le notizie ha fatto cento cento sessai cento cinquantanove partite in serie a e nei professionisti ne ha fatte 200 per cui diciamo che è vecchio ma è giovane in pratica e poi ha fatto tutta la nazionale ante 21 nazionale ha già ora non no ripeto sono orgoglioso come società che lui ha scelto di venire poi speriamo che vada bene per lui e per noi però già noi come società ieri sera stavo a cena col presidente e col mister e doronzo che siamo andati a fare una pizza e stavamo dicendo insomma stavo parlando di lui che è stata una scelta lui è stato bravo è stato bravo pure bologna perché c'è da dire l'amministratore finucci che è il nostro amico del presidente mio per cui ci hanno aiutato perché se no noi come società non potevamo competere con altre società per portare l'idea a frosironi e già è una una cosa bella poi abbiamo preso un ragazzo francese giovane che del 2002 però che ha buone qualità e ora cercheremo di prendere 12 giocatori però devono allo stesso tempo devono uscire 12 giocatori perché sennò andiamo a fare un po di confusione siccome a me non mi piace fare confusione per cui devo cercare di fare confusione sia come società sia per dare la possibilità allenatore di lavorare in un certo modo ne ho avuto qualche richiesta per caso e bai per vita cui siamo se esce uno di questi qua prenderemo un altro giocatore non voglio essere ripetitivo non pensavo che bonifazzo venisse a Frosironi è venuto. Zerbini è un giocatore bravo non ha le le partite di Serie A che c'ha buoni falsi è stato un ragazzo che ha giocato qui con noi ha fatto bene con noi a noi ci piace però non è che dipende solamente da noi dipende anche dal Napoli dipende da tante cose quando c'è noi non è che siamo ci abbiamo in destra solamente Zerbini poi se Zerbini non viene che fanno non giochiamo non facciamo noi ci abbiamo diversi giocatori che ci piacciono che sono dei profili adatti al gioco del mister e stiamo valutando perché ci abbiamo altri giocatori in squadra se qualcuno andrà via non ci facciamo trovare scoperti poi volevo dire un'altra cosa perché noi sì ora sto vedendo abbiamo perso quattro partite sono sei partite abbiamo fatto un punto però prima di stesse partite quanti punti abbiamo fatto abbiamo fatto 19 punti per cui non 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 disprezziamo questa squadra perché se noi mi dispiace tantissimo dall'inizio dell'anno abbiamo detto dobbiamo lottare tutti assieme tutti quanti assieme dobbiamo credere a quello che facciamo sia noi società sia l'allenatore sia i ragazzi ma anche io parlo non è una polemica ragazzi non è uno ma un pensiero che c'ho io vedi lottiamo contro delle ragazzate siete andate a vedere tutte le formazioni delle squadre cosa ci hanno noi siamo un piccolo paese di 40 mila abitanti una società seria molto seria però che abbiamo una filosofia di lavoro e la portiamo avanti sia nel bene che nel male per quel perché prima ho detto lui è stato bravo e il bologna è stato bravo perché noi fuori di certi parametri scusate perché sono proprio raffreddato non ci andiamo non ci possiamo andare perché sennò roviniamo tutto roviniamo il percorso della società poi troviamo delle persone che si mettono a disposizione come lui e come il bologna o sennò la juve quando è stata e noi andiamo avanti però anche voi dovete essere consapevole di quello che andiamo ad affrontare cioè non è io dico sta squadra a oggi ha dato grosse soddisfazioni e le partite che abbiamo perso sono state combattute non è che sono state partite che ci hanno con la squadra ci ha messo sotto perché se mi ricordo la partita di Lazio tre partite fa due partite fa vincevamo fino a 20 minuti alla fine vincevamo 1 a 0 dominando poi abbiamo avuto un bel cao barcao e pazienza non è che uno può può ammazzare sti ragazzi se ragazzi vanno sempre incoraggiati noi non dobbiamo perdere la mentalità di essere spengerati di non avere paura perché col gioco noi siamo arrivati dove siamo arrivati per cui dobbiamo continuare per cui vi dico cerchiamo tutti quanti di stare assieme perché la salvezza non è solamente di angelozio di stico di o di di francesco di bonifazio dei ragazzi la salvezza è principalmente della città non è per cui mi ringrazio sempre cerchiamo di essere sempre fiduciosi perché con la fiducia si arriva lontano secondo me